La regina è pronta a scendere in pista, la prima giornata dell'Atletica alle Olimpiadi di Tokyo, venerdì 30 luglio, rappresenta il momento dell'ingresso in gara per 17 azzurri, si inizia nelle prime ore del 30 luglio, ora italiana. Sono state ufficializzate le starting list con alcune variazioni d'orario rispetto al programma originario, saranno Gianmarco Tamberi fresco di arruolamento alle fiamme oro di Padova dopo aver iniziato la stagione con la società trevigiana Pendemiano e Stefano Sottili, i primi azzurri a scendere in pedana. Elena Bellò invece è la prima atleta veneta a scendere in pista a Tokyo, la Vicentina di Schio è inserita nell'ultima di 6 batterie degli 800 metri alle 4.05, i turni di gara sono 3 e la formula per assicurarsi la semifinale è 3 più 6. 11 veneti in gara della squadra italiana fanno parte 76 l'atleti, 41 uomini, 35 donne, il più alto numero di sempre alle Olimpiadi per l'Atletica Azzurra. 11 gli atleti veneti selezionati dal direttore tecnico delle squadre nazionali La Torre, due uomini, il Vicentino Matteo Galvani, il Bassanese Ejom Faniel e ben 9 donne. Grazie. 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 Grazie.